Buongiorno, anzi buon pomeriggio, incominciamo con il nostro corretto quarto d'ora accademico. Grazie di essere venuti. Siamo oggi alla penultima puntata della serie dei seminari dell'invito al colloquio nell'ambito delle celebrazioni del centenario della nascita di Norberto Bobbio. Vi faccio subito il lancio, così non ci penso più, per la prossima puntata, che è l'ultima, quella del 18 dicembre ancora, che sarà dedicata a cultura laica e religiosa, un contrasto insuperabile. Quindi il prossimo appuntamento sarà ancora quello. Seconda informazione, seconda notizia, abbiamo depennato, come avrete visto, abbiamo dovuto depennare dal tavolo dei relatori il nome di Elena Paciotti, perché purtroppo niente di grave, ma è stata presa da una fortissima febbre e influenza. Non abbiamo voluto sapere di quale tipo di influenza si trattasse, ci fidiamo sicuramente della sua buona fede e quindi le inviamo intanto i nostri più amichevoli auguri. Non è del tutto persa, però, perché lei, dando prova della sua buona intenzione di venire a Torino, aveva scritto la sua relazione, ce l'ha mandata, io ne leggerò una gran parte al posto suo, mi perdonerete se sarò meno bravo di lei nella presentazione. Il tema di oggi, il titolo, come avete visto, è molto tecnico, semplice, ONU e Unione Europea, istituzioni per la pace, già tantissime volte parlando di questo aspetto delle tematiche bobbiane, parlavamo di guerra e pace, insomma, eravamo un pochettino più schematici e brutali, ma insomma, guerra e pace. Ci si potrebbe interrogare un attimo, e io non lo farò, perché anche se c'è un relatore in meno, oggi a lavorare sono loro, non io in realtà, ci si potrebbe interrogare, sarebbe interessante ragionare un attimo su questo aspetto del pensiero bobbiano, perché la tematica internazionalistica, in bobbio, prendendola adesso nella sua ampiezza e complessità, e non dico una curiosità, ma ci sono stati tantissimi filosofi della politica che si sono occupati di guerre e pace, ma poi non erano magari dei giuristi, non erano magari anche in grado di svolgere le analisi di tipo storiografico, in termini di storia delle dottrine politiche come bobbio, e via discorrendo. Nella sua pura amplissima produzione non ci fosse stato un capitolo per la politica internazionale, le relazioni internazionali, la guerra e la pace, non ci sarebbe in fondo stato nulla di strano, nessuno avrebbe potuto dire, ma come mai, ti sei dimenticato di quegli aspetti lì? Non solo, no, ma naturalmente e probabilmente in base essenzialmente alle mie preferenze professionali, il capitolo internazionalistico di bobbio è straordinariamente importante. Ripeterò ancora una volta, l'ho già detto tante volte, forse questa sarà l'ultima circostanza in cui varrà la pena per me di ridirlo, uno dei saggi di bobbio, il problema della guerra e le vie della pace, quello, nuovi argomenti, 1966, è a mio modestissimo, ma specialistico, lasciatemi dire, modo di vedere, uno dei più bei saggi mai scritti al mondo sul problema della guerra atomica, a partire dalla guerra atomica e più in generale sulle giustificazioni o sulla giustificabilità della guerra. Per cui siamo di fronte, anche in questo incontro, in questo pomeriggio, di fronte a una tematica di una ricchezza, di uno spessore, di una profondità e anche ampiezza straordinaria. Anche se è ben noto, certamente, che le posizioni di bobbio, in particolare sulle due istituzioni che noi abbiamo messo al centro del lavoro di oggi pomeriggio, cioè ONU e Unione Europea, rientrano nella sua analisi in modi non particolarmente fortunati o ottimistici, diciamo così, molto sinteticamente. Anche se è ben noto che bobbio attribuiva all'ONU più che a ogni altra istituzione, diciamoci subito che in realtà dell'Unione Europea bobbio si è occupato pochissimo, o meglio, da quando c'è l'Unione Europea bobbio aveva ormai una certa età, per cui era meno partecipe e meno attento ai problemi dell'attualità. E nel periodo in cui invece gli iscritti internazionalistici di bobbio sono più fitti, l'Unione Europea non solo non c'era ancora col nome e l'istituzione e l'organizzazione giunta a quel punto, ma era anche politicamente molto rilevante. E quindi l'attenzione di bobbio si rivolgeva molto più verso l'ONU che non verso l'Unione Europea. Dicevo dunque che bobbio attribuiva all'ONU la capacità di cambiare la storia delle relazioni tra gli stati. Se questa istituzione fosse davvero diventata ciò che il suo statuto recitava, avrebbe potuto giuridificare la vita internazionale. Sarebbe stata una reale e totale applicazione della carta dell'ONU, avrebbe cambiato il mondo. Ma è altrettanto vero e noto quanto bobbio fosse sfiduciato e dispiaciuto del fatto che questo cammino non si è percorso quasi per nulla. Il terzo assente, questa formula è diventata poi notissima nei suoi scritti, che poi ha dato vita anche a un volume di grande successo, curato dal nostro amico Pietro Polito che è da qualche parte in questa sala, ne è la testimonianza vivente, per così dire, perché il terzo era quando bobbio scriveva queste cose ed è oggi tuttora assente. D'altra parte la speranza di pace nel pensiero di bobbio era consegnata esclusivamente al federalismo di tipo kantiano, il quale unico avrebbe la capacità di abolire gli stati e dunque in un solo colpo di risolvere i problemi della pace e della guerra nel mondo. Cioè, aboliti gli stati, si abolisce la sovranità, abolendo la sovranità non si può più neanche fare la guerra. Il mondo contemporaneo, specie dopo l'89, che possiamo anche considerare il periodo sul quale bobbio non ha potuto, se non molto cursoriamente, riflettere, non ha visto però in realtà affatto migliorare le cose dal punto di vista istituzionale. Anche se in realtà sono cambiate molte cose, è finito il bipolarismo, c'è una sola grande potenza al mondo, sono nati mille piccoli fuochi di tensione e così via. Rispetto a ciò, l'ONU non soltanto non ha migliorato in realtà il suo rendimento, ma dopo l'insulto delle menzogne di Colin Power, ancorché costretto a dirle, di fronte al Consiglio di sicurezza non sembra essersi più ripreso. Se voi guardate la performance dell'ONU degli ultimi sei, sette anni, purtroppo si tratta di un record negativo veramente doloroso. Si deve dire dunque che la speranza bobbiana fosse infondata? O si può sperare che semplicemente non si sia ancora realizzata, ma abbia la stessa cogenza di un tempo? Considerazioni non più ottimistiche, ma più mirate, possono essere fatte con riferimento all'Unione Europea, scusate, che dopo aver dato l'impressione negli anni 90 di poter diventare un vero e proprio soggetto della vita internazionale... Grazie. Grazie.